Signor Presidente, signore e signori, con onore di darvi il benvenuto alle scuderie del Quirinale in un'occasione particolarmente significativa, direi quasi solenne, per la nostra cultura. Le scuderie del Quirinale sono chiamate ad essere il fulcro espositivo dei tre grandi anniversari che rapidamente si stanno avvicinando. Romano, Raffaello. Raffaello si mostra con un amico che viene presentato allo spettatore e chi guarda il dipinto è coinvolto all'interno del dipinto dal gesto di questo personaggio. Quindi è un ritratto a tre, in realtà, non è un ritratto a due, spesso si dice. In sezione di innalzato i principali monumenti di Roma, l'idea fu sicuramente di l'anno decimo. Questo è uno dei ritratti più belli e più famosi della terra dell'arte, è un prestito ovviamente eccezionale, tra l'altro io l'ho visto recentemente a Louvre, si vede qui in modo straordinariamente migliore rispetto a Louvre, è un dipinto di una qualità sbagliante. Lui era in questo momento ambasciatore di Louvre Urbino, alla corte pontificio. Questa invece è la sala dedicata ai capolavori che Raffaello dipinge negli anni di Leone X, opere che vengono spedite un po' in tutta Italia, dalla Santa Cecilia, che viene mandata a Bologna, ovviamente, oppure la visitazione per Anconio che viene mandata all'Aquila, o la Madonna del Divino Amore che viene dipinta per... anche questo bellissimo quadro degli uffici di San Giovannino che è stato per lungo tempo un po' declassato a scuola, a bottega e che solo recentemente ci si è resi conto invece che è un'opera sicuramente ideata da Raffaello e in parte anche dipinta da Raffaello, anche se bisogna sempre tenere presente che in questi ultimi anni l'artista era talmente oberato da un numero talmente stragrande... che si è reutato alla Bologna... Qui siamo di nuovo con questo passaggio di consegne che c'è fra Raffaello e Giulio Romano quando Raffaello muore, ci sono tutta una serie di opere che vengono iniziate o disegnate da Raffaello come il martirio di Santo Stefano di Genova, questo è un grande dipinto per una chiesa di Genova, i disegni preparatori come pubblicità ancora contenuta del maestro e questa sorta di inaspirazione quasi proprio barocca e perfino l'altare su cui si svolge la scena è un altare romano molto simile a questo che abbiamo voluto evocare appunto davanti a questa riproduzione, questo è un paello, quando vengono i primi sette messi in propria... L'aspettavo davanti la velata perché non potevo commentare meglio che attraverso questo ritratto l'intera sala di Yucata appenuto a Raffaello, poeta, è l'ideale della bellezza, la velata e la formarina messe accanto potrebbero rappresentare i due poli, i due poli insiti nell'intera attività di Raffaello. La Madonna Alba, da Washington, con il suo disegno preparatorio, dove la Madonna è naturalmente un giovane, un giovane in camicia perché il modello era ovviamente maschile, perché il miracolo del neonato al padre del santo ha questa guancia guancia molto affettuosa tra madre e figlio che è uno dei motivi iconografici donatelliani ripresi da Raffaello durante il periodo fiorentino. Forse preferisco quest'ultima lezione perché è più semplice, io ripeto all'interpretazione grandissima di Panostri, quella di Panostri cercava di eccesso di fortuna, forse questa è troppo semplicistica, la verità sarà nel mezzo, ma noi abbiamo documentato entrambi, come doveva essere il cavalliere perfetto gentiluomo, e lui lo era già prima che Castiglione scrivesse il suo corteggiano. Chi è che inizia prima, credeva a pensare? Non lo sappiamo mai. Ho ragione di credere che a Raffaello non cassa solo la penna, questo per un ragazzo molto giovane che avrebbe fatto tanta strada. Grazie.